La Commissione dei Cambiamenti Climatici ha lo scopo di seguire e studiare questo tema del cambiamento climatico che è un tema che diventa sempre più di attualità, quindi seguire le leggi che vengono emanate, seguire le attività delle COP e dell'IPCC e creare appunto dei documenti e approfondire questi temi. Nel corso del 2023 abbiamo fatto degli incontri con le scuole, siamo stati ricevuti da diverse scuole, abbiamo illustrato ai gruppi di studenti il tema del cambiamento climatico nelle sue varie forme, con le cause, gli effetti e le cose che si possono fare per mitigarne gli effetti. Dopodiché abbiamo cominciato ad analizzare i PAESC, che sono i piani comunali per l'energia e il clima della città metropolitana di Venezia, un'attività che abbiamo iniziato verso la metà dell'anno e che vorremmo continuare anche nel corso del 2024. Vorremmo anche creare un database per inserire i principali documenti normativi e legislativi sul tema dei cambiamenti climatici, in modo da tenere aggiornato non soltanto la Commissione, ma tutti i tecnici che ne vogliano far parte.